Quello che emerge è che nel complesso l'economia regionale continua a crescere ma lo fa in maniera meno intensa dell'anno scorso e cresce un po' meno del resto d'Italia. Lavoro, famiglie e imprese. La Banca d'Italia fa il punto sull'economia regionale con la presentazione dei dati nell'aggiornamento congiunturale. La fase di espansione dell'occupazione che aveva portato a superare i livelli pre-pandemia si è interrotta nelle marche. Nella media del primo semestre il numero di lavoratori è diminuito a fronte di un aumento su scala nazionale. Il calo si è concentrato nel lavoro autonomo mentre il lavoro dipendente è cresciuto a fronte di un tasso di occupazione stabile. La dinamica dei consumi è considerevolmente indebolita risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie determinata dall'inflazione. Diminuiti anche i prestiti bancari nelle marche nella prima metà dell'anno. Sul versante dell'occupazione registriamo come si sia interrotto quel processo di ripresa che durava da parecchio tempo. Il numero degli occupati è calato e sul versante dei tassi che caratterizzano nel mercato del lavoro. La situazione appare relativamente meno preoccupante di quella che è anche perché accanto al calo degli occupati cala anche la partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di deterioramento dei prestiti alle famiglie è rimasto sui valori osservati nel 2022. Per le imprese è aumentato solo marginalmente. I depositi bancari di famiglie e imprese sono diminuiti. Una flessione dovuta, analizza la Banca d'Italia, alla netta contrazione della componente in conto corrente. Crescono invece i depositi a risparmio. Quindi minori domande di prestiti da parte delle imprese dovute sia ai minori investimenti, come vedremo, ma anche con riferimento a quella che fino a questo momento aveva sostenuto la domanda, quindi la componente del capitale circolante. Tutto ciò è stato accompagnato da un irrigidimento di quelle che sono le condizioni creditizie e quindi maggiori difficoltà di accesso al credito ma che sono in parte collegate anche alla situazione delle imprese. Quindi fattori di domanda ma anche fattori di offerta. Siamo in un contesto caratterizzato da un'elevata inflazione, uno quindi che erude quello che è il potere di acquisto delle famiglie e poi in un contesto in cui la Banca Centrale da luglio del 2022 ha adottato una politica monetaria non più accomodante, quindi un rialzo dei tassi ufficiali che alla fine si è ripercosto insomma su quelli che sono i tassi di mercato.